Ognuno di noi nasce con un destino. A malacorti vuoi trovare un po' torno. C'è chi nasce con un cartello a reterina e chi nasce con un destino a portare il corpo. Io, per esempio, non mi metto scorda che non c'è già fa, si tarda l'ha già presa. È stata ieri di una ghiomanta leggendo ma con la lente e mezza la mano. Maritta, siete stato un triste amante. Vedete questa linea con me strana. Arriva a mezzo palma e poi ritorna. Che faccia di carissimo signore con questa linea voi tenete il corno. Eh, vedete è stato un segno fatto a uncino. Questo segno ormai da tutti è risaputo che lo porto a mezza la mano, San Martino. O santo protettore dei cornotti. Sentendo queste parole in due cellule ha cominciato a fare mille pensieri. Ma torna a casa e faccia una macchina. Ma donna ha già fatto correre i pompieri. Ma no, levo l'occasione. Una voce interna mi suggerette. E il corno ormai sonca una cosa eterna. Non c'è che fare. E la solita canzone. O stessa dame steve un paramiis. Eppure donna eva la traduuta. Capastica orne fattenu sorrisse. Capure Napoleone. Era cornuto. Eppure donna eva la traduzione. Capica orne. Capice. Capice. Grazie a tutti.